Cinque morti in 24 ore, quattro decessi al Moscae di Avellino e uno al Francipane di Ariano. Alla città ospedaliera sono deceduti nella serata di ieri un 86enne di Volturara ricoverata in gravi condizioni dal 6 novembre. Questa mattina un 89enne di Lauro ricoverata dal 10 novembre, un 81enne di Rocca Bascerana e una donna di 65 anni di Avella. Ad Ariano è morto un 78enne di Storno. Dal 1 ottobre ad oggi all'ospedale Moscati di Avellino sono morte 56 persone. Nell'azienda ospedaliera Moscati risultano al momento ricoverati 113 pazienti covid positivi, sette dei quali in terapia intensiva. Dal 1 settembre sono stati dimessi a domicilio o trasferiti in altri istituti 180 pazienti. Intanto ieri l'Asla ha comunicato altri 114 positivi in Irpinia e in attesa del nuovo bollettino ci sono già alcuni sindaci che hanno ricevuto comunicazioni nel merito da parte dell'azienda sanitaria. È il caso del sindaco Rino Bonopane, il quale rende noto di aver ricevuto notizia di altri 12 positivi nel suo comune. A Montella la conta dei contagiati arriva a 72. Dieci di questi sono contatti diretti di casi positivi accertati nei giorni scorsi. Un altro caso riguarda una persona che è stata sottoposta a tampone sul luogo di lavoro. L'ultimo riguarda una concittadina ospite in una RSA. Il virus non molla l'Irpinia che nella seconda ondata è stata praticamente invasa dal covid. Sono infatti 115 su 118 i comuni dove si registrano positivi. Restano fuori dal triste elenco i comuni di Cairano, Monteverde e Petruro.